Purtroppo non è cambiato nulla dall'anno scorso, però ripeto, noi dobbiamo pensare alla partita domenica, cercare di fare il nostro, di portare a casa i tre punti e poi sperare che anche le altre partite, le altre squadre se la giocano alla pari. E quindi intanto noi dobbiamo portare a casa i tre punti e poi al novantesimo vediamo cosa hanno fatto le altre. Io con il mister ho avuto un ottimo rapporto, avevamo stima reciproca sia da parte mia che da parte sua. A me fa piacere, però purtroppo è una sconfitta per tutti. Comunque anche il cambio in panchina, comunque dobbiamo farci un esame di coscienza noi giocatori, perché alla fine diamo il colpo ai allenatori, ma alla fine chi va in campo siamo noi. Purtroppo è una sconfitta per tutti noi giocatori. Ora cerchiamo di pensare a domenica, pensare solo al campo e poi quello che succede, succede. Secondo me dobbiamo vincere una delle due partite in casa con Sant'Arcangelo e Albinoleff. Secondo me ci mancano quei punti lì, al di là che poi quest'anno abbiamo fatto noi magari tanti errori, però secondo me senza guardare troppo lontano, se guardiamo quelle due partite lì, se vinciamo una di quelle partite lì, secondo me ora parlavamo di tutt'altro campionato. In senso, bastava tre punti magari contro Albinoleff o contro Sant'Arcangelo e ora eravamo un po' più tranquilli. Magari cercare di creare più palle e gol, perché secondo me magari creiamo poco e magari subiamo poco, ma creiamo anche poco e questo è stato un grosso problema tutto l'anno. Poi ora giustamente si va a guardare le ultime partite e vediamo che comunque se fai un gol, magari con Renate abbiamo fatto gol, purtroppo poi abbiamo preso gol dopo dieci minuti e quello comunque dobbiamo stare più attenti, cercare di non darle nessuna possibilità di pareggiare quella partita lì, perché anche quella era fondamentale. Io ora, come ora, sono concentrato nella partita domenica, poi dopo il novantesimo vediamo cosa succede, ripeto, speriamo che Sant'Arcangelo e il Fano si giocano la partita e poi si vedrà. Ci credi che se la possano giocare? Io lo spero, perché comunque sarebbe veramente una vergogna, però io lo spero, secondo me se la giocano, perché comunque chiunque di noi non entra mai in campo per perdere, quindi lo speriamo.